Abbiamo inaugurato un'area a disposizione dei camperisti che è un'area ecologica perché possono scaricare qui in un luogo nato apposta per dare una risposta a tanti che vanno oggi con il camper, in un'area strategica perché è lungo la vallata del Foglia che ha circa 200.000 abitanti da Pesaro e Fortalisauro ed è anche una risposta dal punto di vista ambientale perché normalmente i camperisti dove non ci sono aree di questo genere scaricavano le fognature con problemi anche dal punto di vista igienico e sanitario. Quindi è un'operazione che dà una risposta dal punto di vista turistico, ambientale ed è anche una risposta all'organizzazione dei camperisti che il Comune ha messo a disposizione anche la sede qui nell'area della Tamoil di proprietà del Comune di Vallefoglia e quindi era un'altra necessità più volte sollecitata e che finalmente oggi inauguriamo.